I nostri invitatori e vorrei ringraziare un amico che ci ha disegnato la maglietta che è comunque molto carina e vogliono farvi un applauso sta molto carina, non te lo aspettavo quindi non soppiamo quando uscirà il disco però vi terrò informati quindi ci contatterà se vi è piaciuto questo concerto comunque potete andare a seguirci sulle nostre facce noi siamo alla batteria c'è Marco Serra la fiducia per il mio Gioradio abbiamo fatto che manca oggi questa bella lungo la sorella che non è la prova la mia scorsa alla voce è il mio Gioradio grazie mille lasciamo un lettore alla buona situazione grazie mille grazie mille Grazie a tutti 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 Grazie a tutti